Ciao amici! Tra di voi chi digerisce bene e chi digerisce male? In ogni caso digerire meglio e migliorare la digestione fa bene a tutti. Prima di tutto vediamo di capire se digeriamo bene o digeriamo male. E come facciamo a capirlo? Se dopo mangiato proviamo un senso di pienezza, nausea, pesantezza, gonfiore o sonno, vuol dire che la quantità di cibo supera la capacità di digestione. Oppure troppi tipi di alimenti diversi arrivano nello stomaco e si creano miscele indigeribili. Se il cibo non viene scomposto nel modo giusto lo stomaco non si svuota nei tempi normali e il cibo ristagna a lungo creando gonfiore e pesantezza, con sonno e abbiocco. Per fortuna ci sono i rimedi della nonna per migliorare la digestione per tutti. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Il canarino. Basta prendere un limone, possibilmente biologico, sbucciare la parte gialla senza arrivare al bianco che risulta amaro. Puoi fare bollire le bucce in due tazze di acqua per 5 minuti, lasciare raffreddare e bere tiepido a piccoli sorsi. 2. Il bicarbonato. Tutti abbiamo in casa del bicarbonato di sodio. Per digerire meglio mettere mezzo cucchiaino in mezzo bicchiere di acqua e bere tutto ad un fiato. Conosco il risultato, fa rumore ma funziona. Un piccolo trucco è berne un po' prima o a metà pasto se si sta davvero esagerando. 3. Lo zenzero. Se avete in casa dello zenzero potete fare un decotto. Basta tagliare due centimetri di radice di zenzero, sbucciarla, tagliarla a pezzettini e farla bollire in una tazza di acqua. Bere a piccoli sorsi e se lo si desidera aggiungere un cucchiaino di miele. 4. La camomilla. Per digerire è farsi una camomilla ma molto concentrata fino a 6 bustine in una tazza da lasciare in infusione per 6 minuti. Aggiungere mezzo limone spremuto. Addirittura? La concentrazione è importante, sorseggiare molto calda e senza zucchero. 5. I semi di anice o di finocchio. Fare una tisana con due tazze di acqua e un cucchiaio di semi e lasciare infondere per 5 minuti. Bere puro senza dolcificare. Funziona anche mettere in bocca un cucchiaino di semi e masticarli a lungo per estrarre subito gli oli essenziali con il principio attivo digestivo. Ah beh, questo è un modo pratico e veloce. Se vuoi conoscere altri consigli e ricette per stomaco e intestino sano in modo naturale, basta iscriversi al mio canale e guardare la playlist dedicata. È facile, basta un clic così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati quando escono i miei nuovi video. Vivi naturale e vivi meglio! Grazie a tutti!